Allora adesso abbiamo ancora una challenge per voi, una challenge per caricare il vostro metabolismo e aumentare la frequenza cardiaca. Lo faremo con cinque esercizi diversi fatti tutti ad alta intensità e ad alta velocità. L'idea è di fare 30 secondi di carico e 10 secondi di pausa. Ovviamente voi potete adattare il tempo in su o in giù, sia della pausa che del carico. Noi partiamo oggi col 30 verso 10. Primo esercizio squat jump, scendiamo in uno squat, bel salto, atterraggio morbido, attenti alle vostre ginocchia per 30 secondi. 10 di pausa, subito dopo, massimo numero possibile di push up, flessioni, corpo bello dritto, gluteo attivo, scendo e salgo. Non fateli troppo veloci, state sempre attenti all'esecuzione del esercizio. Anche qui in 30 secondi massimo numero possibile. Terzo, il split jump. È un affondo e cambio la posizione saltando più in alto possibile mantenendo il busto bello e retto. Dopo questi 30 secondi partiamo con i jumping jack, apro e chiudo. Qui potete aumentare o diminuire la velocità delle gambe per aumentare o diminuire l'intensità. Siamo già arrivati all'ultimo, spingiamo indietro l'anca, schiena dritta, le braccia si muovono lentamente, parte alta del corpo controllata e le gambe massima intensità per 30 secondi. Bene, adesso sta a voi a ripeterlo, a ripeterlo per 3 o 5 giri, minima pausa, massima intensità durante il carico. Buon divertimento! Ciao!